Ancora un principio di incendio a Casa Tevenin, struttura di accoglienza per minori in via Sassoverde ad Arezzo. Nella notte tra martedì e mercoledì sono infatti divampate nuovamente le fiamme all'interno dell'istituto. Nove piccoli ospiti sono stati così evacuati e trasferiti temporaneamente allo Sport College di Arezzo. Appena quattro giorni fa un altro incendio, infiamme in quel caso i quadri elettrici che si trovavano al primo piano della struttura, evacuata interamente. E questa notte ancora un altro incendio. Attorno alla mezzanotte è scattata la chiamata ai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. Le fiamme sarebbero partite da una presa elettrica, ancora non è chiaro se danneggiata volontariamente. I tre locali posti al primo piano erano totalmente invasi da un denso fumo acre all'arrivo dei pompieri. E' iniziata così l'evacuazione e il trasferimento dei minori presso la struttura del college. Questa notte abbiamo dovuto mettere in sicurezza gli ospiti della struttura e ringraziamo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che sono subito intervenuti sul posto. Quindi anche grazie alla celerità dell'operatore che era intorno siamo riusciti a evitare che qualcuno si potesse far male. Siete già al lavoro ovviamente per la messa in sicurezza dell'istituto e per il trasferimento. Ovviamente sì, cercheremo di ripristinare la normalità il prima possibile in modo da garantire agli ospiti il rientro nella quotidianità e nella normalità. I vigili del fuoco aretini hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area ed infine hanno effettuato i rilievi utili alle indagini. Al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dolosa.